Ciao ragazze, oggi video sui prodotti finiti è da un bel po' che non giro questa tipologia di video infatti ho accumulato un bel po' di prodotti e sono qui per mostrarveli li ho messi tutti nella shopping bag di Machillalia che deriva con ogni ordine di Machillalia fino allo salimento scorte mi pare e inizio subito con mostrarvi i vari prodottini allora ho terminato un bel po' di salviettine scusate se non guardo verso di voi ma sto prendendo le varie cose sia igienizzanti che spreccanti ma davvero ne ho finite di diverse a posto allora ho terminato due confezioni di queste salviettine igienizzanti che utilizzo per tutti gli usi pure quando faccio video che mi sboccio un pochettino le mani in ogni dove mi pulisco con queste salviettine ho finito queste qui della farmacotone 72 salviettine e queste qui per i bimbi della Agis sempre 64 pezzi poi ho finito tre confezioni di queste qui della Dealo che sono salviettine struccanti non hanno una grandissima qualità quindi ve le sconsiglio io le utilizzavo soltanto quando non mi truccavo moltissimo perché già se dovessi struccare un trucco di questo tipo non riuscite cioè dovete sprecare tipo 5 salviettine di queste per togliere via un po' di fondotinta che alla fine non è che mi sono truccata tanto un ombretto cremoso insomma non sono in grado poi perdono i peletti e è una cosa che odio quindi tre confezioni di queste qui della Dealo poi come ultimo prodotto vi faccio vedere queste qui esfolianti che ho trovato in un negozietto tutto 99 centesimi a Cattolica sono della Super Drag e sono delle salviettine esfolianti hanno un odore fresco buonissimo sono le Clarity Exfoliating Facial Whips penso di averlo pronunciato in maniera cristiana e Simona parla allora cosa volevo dire? sì avevano una trama tipo la loro struttura era tipo fatta a nido d'ape e diciamo servivano per esfoliare la pelle io le utilizzavo sia dopo essermi struccate insomma per fare una sottospecie di peeling al viso oppure le utilizzavo sia per struccarmi che diciamo per massaggiare e pulire a fondo la pelle perché qui dietro potevate utilizzarli insomma in questi due modi qua ve le straconsiglio se avete un negozietto tutto 99 centesimi nella vostra città perché penso che è una marca che trattano questa qua è anche famosa ci sono delle catene insomma in Inghilterra di questa marca qui quindi davvero buone a saperlo ne compravo altre confezioni non conoscendo diciamo che tipo di prodotto per evitare insomma di prendere una sola ne ho comprato soltanto uno ma mi sono pentita perché è davvero buonissimo poi sempre per quanto riguarda lo struccaggio eccetera eccetera vi faccio vedere lo struccante bifassico della Ebroche che è lo struccante che sto utilizzando tuttora l'ho ricomprato perché c'era la promozione il mese scorso se non sbaglio 2,95 euro quasi a metà prezzo perché costa quasi 5 euro è davvero un ottimo ottimo prodotto della Ebroche infatti quando faccio gli ordini insomma di Ebroche perché io li prendo da catalogo perché una mia amica fa la rappresentante non vado in negozio quindi non so se queste promozioni sono attive anche nello store perché ad esempio nello store il trucco costa meno io non ho mai comprato nulla di trucco eccetto quei prodottini della linea di Ebroche di make up che costano un pochettino in meno proprio perché costano secondo me esageratamente sul catalogo quindi non li ho mai comprati non so quindi se le stesse promozioni che ho usato io quindi questo 2,95 euro le trovate anche nel negozio in sintesi e poi ho preso questa acqua micellare qui acqua micellare detergente visocchi labbra ha un odore davvero paradisiaco mi è durata un botto l'ho comprata qualche mese fa che stavo in promo infatti questo mese qui non c'era costa tipo 7-8 euro e il mese scorso stavo in promo due mesi fa stavo in promo non mi ricordo a quanto ed è davvero buonissima il packaging è verde con queste foglioline qua e sono ai 3 tè detossinati ed utilizzavo questo qui l'acqua micellare per sgrassare il viso dopo aver utilizzato lo struccante bifastico perché mi dà fastidio quel senso di oleoso che rilascia lo struccante bifastico sul viso bene poi ho terminato svariati deodoranti un attimo che ve li metto tutti qui allora questo qui della malizia amour seduzione parfum costa da 1 euro e 79 niente di eclatante più che essere un deodorante diciamo era un profumo però onestamente niente di che uno tra i miei deodoranti preferiti oltre quelli della DAV perché persistono un gotto sono questi qui della Venus che costano tipo 1 euro questi qui sono in realtà è un'acqua profumata qua dice body parfum esotic pulse 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 non saprei scusate il mio inglese pessimo e praticamente è un deodorante alla vaniglia ma ha un odore davvero buonissimo duraturo davvero top mi auguro che riuscite a trovarlo in giro io lo compro in un negozio di detersivi nella mia città e lo pago 1 euro e quando lo trovo ne prendo più di uno perché non lo so non ce l'ha sempre questo tipo di prodotto qua ed è davvero buonissimo poi ho preso questo qui della mantovani questi sono gli acquisti di mio padre la mantovani mi ha sempre fatto cacare sia per diodoranti bagno spiumi sciampi non mi è mai piaciuta perché ha delle fragranze pessime davvero pessime lo stesso vale per questo qui della nevromed scusatevi lo stesso vale per questo qui della nevromed non lo so non mi è mai piaciuta come come marca questo qua è al riso regola la traspirazione 48 ore fresh zero alcol niente di esorbitante la fragranza non mi piace per carità non ha alcol quello che volete però non mi piace quelli che adoro invece sono questi qui della DAV adoro questo al cetriolo che sarebbe con l'oliverde adoro quello lì giallo che non mi ricordo che fragranza è tipo al lime una roba di queste e quello col tappo rosso che è i frutti rossi che non si trova facilmente si trova spesso da acqua e sapone però a acqua e sapone rispetto ai negoziati diversivi qui da me lo fa pagare un po' di più quindi preferisco acquistarlo in questi negoziati e risparmiare qualche euro bene fatta la spasa vi faccio vedere fatta la la spasa la mia tuta fantastica la spasa dei dei diodoranti vi faccio vedere che cos'altro ho terminato allora questo bagnoschiumo qui della blu marine che è fantastico ha una fragranza buonissima ed è il blu marine innamorata persiste un botto sto coso c'è ancora l'odore e l'ho finito tanto tempo fa mamma quanto è buono altri bagnoschiumi li avevo ma mia mamma li ha trovati in mio bagno e li ha buttati perché non sapeva del fatto del video quindi non vi posso far vedere comunque meno male che ha lasciato questo perché è davvero buonissimo l'ha trovato se non sbaglio quando perché l'avevano regalato a mia sorella e l'avevano preso da sefora quindi lo trovate lì è davvero buonissimo mamma quanto è bello 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 poi ho terminato Narciso Rodriguez questo qui è un aiuto toalette con diciamo la scatolina rosa e la boccetta nera è un tipo di profumo che io ho riacquistato per due anni di fila però onestamente adesso non andrei a ricomprare non perché non mi piace la fragranza ma perché mi sono un pochettino stancata non è un profumo che non riesci a smettere di comprare io ad esempio non riuscirei a smettere di comprare Chloe mentre questo qui dopo un poco vi stanca perché ci sono fragranze più particolari di Narciso Rodriguez parliamoci chiaramente quindi l'ho terminato questo qui era quello da 50 ml e l'ho finito non penso che lo ricomprerò più anche perché non ha un costo bassissimo ma poi vi ripeto voglio provare altri profumi questo qui si è bellissimo per carità ma ormai penso è superata come fragranza io poi sono fissata anche per i profumi cioè non è che non c'è qualcosa che non mi piace adoro qualsiasi cosa poi per quanto riguarda i campioncini vediamo qua cosa ho terminato ah sì un fondotinta di Estée Lauder questo qui era il campioncino che mi mandarono con la promo del rossettino a 5 euro con i vari campioncini ed è buonissimo che ve lo dico a fare però non oso immaginare quanto costa ed è il double wear di Estée Lauder davvero buonissimo era proprio il mio stesso colore il 4N1 Shell Beige 05 davvero buonissimo e poi ho finito questo campioncino del nuovo profumo di Kess che fa cagare proprio quelle classiche fragranze da bimbe minchia la clemenza raga non mi piace proprio cioè non ho parole proprio brutta 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 molto molto banale non orribile orribile e e niente questi due campioncini qua ah poi ho finito questo che sarebbe il tonico della ringana color lì biologico che aveva un puzzo raga allucinogeno si struccava però vi ripeto puzzava io non so portata per il bio ragazzi ho provato ho testato vari prodotti ma non so poco portata cioè mi ci applico pure ho provato creme cremine ma a me ste robe bio raga non ce la faccio cioè la come si a romazon mi mandò la box io non sono riuscita a creare una sfaccima di cosa cioè ho creato il tonico che l'aveva creato anche la mia amica federica che era il bruno però a lei capito odorava cioè a me invece puzzava di di catacus cioè puzzava di robe morte una roba allucinante e che ho detto vabbè non è arte mia infatti non mi ho fatto neanche la recensione di questa box perché ho provato a fare le cremine a strecciare a fare praticamente ho gettato all'aria tutti gli ingredienti di quella box e non sono riuscita a fare un fico secco quindi non sopportata ragazzi ci provo cerco di utilizzare prodotti bio ma non sopportata cioè sto cosa l'ho provato ma mi puzzano non lo so non mi è mai piaciuto qualcosa di infatti tengo le creme di questa cosa ma non me le riesco a mettere perché puzzano cioè non sono andata a male puzzano proprio cioè non non lo so poi come prodotti di trucco vi faccio vedere allora ho terminato un bel po' di prodottini sempre per la base però ho finito purtroppo la mia BB cream di Tarnier ve ne ho parlato fino a vomitare di sta BB cream raga lo so però l'adoro 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 la sostituivo tranquillamente al fondo perché aveva un'alta coprenza mi piaceva perché si stendeva in maniera veloce quindi recuperavo anche tempo per quando mi dovevo recuperare cioè davvero ottimo sto aspettando che a questa pone la metti in promo così la vado sicuramente a riacquistare la mia della tonalità media avevo anche la light però mi sono accorta che c'era troppo di stacco tra il collo e la faccia e quindi l'ho dovuta dare a mia sorella ed è davvero un ottimo ottimo prodotto ve lo straconsiglio poi ho terminato line of stage di essence che io lo adoro l'ho già ricomprato perché non riesco a farne a meno l'unica cosa che io chiedo al signore essence al signor Cosnova se cambiano il packaging di questo prodotto perché cosa succede voi riuscite a prelevare il prodotto fino a qui vedete dove sta la scritta G al di sotto c'è ancora il prodotto l'unico problema è che sto pennellino o allungano il pennellino o cambiano il packaging perché con questo pennellino qua non arrivate fino al al fondo del prodotto quindi vi rimane ancora il prodotto in fondo infatti vedete c'è ma non si riesce a prelevare se qualcuna di voi ha studiato un metodo per prelevare tutto il prodotto fatemelo sapere veramente con la faccia per terra se mi risolvete questo problema perché vi giuro mi irrita sta cosa che diciamo c'è tutto questo prodotto che non riesco ad utilizzare perché non si può prendere perché è proprio corto quindi vi ringrazio se avete studiato un metodo per salvare quel prodotto che c'era abbastanza voglio dire tanto mi può durare anche un mese perché ne basta davvero poco poi un prodotto molto molto valido che vi consiglio è questo correttore della collection professional questo qui me lo ha regalato la mia amica Carmela del canale non fashion and beauty ed è una beauty adoption perché per lei era troppo scuro se non erro ed è il numero 03 classic beige è un correttore in penna se non erro ha un costo di 4,50 euro sul sito della collection ed ha un'ottima ottima coprenza rispetto ai correttori quelli lì in penna che non c'è tantissimo prodotto è l'unica pecca questo qui è quello che si gira l'avete capito questo qui ne basta davvero pochissimo e ha una alta coprenza davvero ve lo straconsiglio cioè si c'è poco prodotto però ne basta davvero poco perché davvero è un correttore molto molto coprente si asciuga subito non va nelle pieghette davvero mi ha soddisfatto tantissimo infatti mi dispiace che l'ho terminato un altro correttore questa volta in stick che ho finito è questo qui di Deborah della linea 24 ore perfect questo qui era un tester ed era lo 04 il più scuro questo l'ho usato tutta l'estate ed è rimasta tipo la plastica l'ho usato tutta l'estate mi è piaciuto molto perché copre non va nelle pieghe si stende facilmente pur essendo un correttore in stick non fa l'effetto pastoso sotto l'occhiaia che odio che è un effetto che io odio davvero mi è piaciuto tantissimo spero di ritrovarlo in tipo tester perché l'ho pagato 3 euro questo qui da sapone costa tipo 7 euro una cosa di queste quindi risparmio abbastanza comprandolo a tester e poi come ultimo prodottino di metà ho terminato la mia colla perci a finte di Peggy Sage questa qui nera che io reputo migliore di quella lì bianca che sto usando adesso perché si riesce a staccare subito dalle ciglia finte non le rovinano mentre quella lì bianca si imprende cioè si azzecca alle ciglia non se ne vuole andare non lo so sono lì 3 ore a pulire le ciglia finte è una cosa che mi irrita particolarmente perché la sera torno a casa stanche strutte mi devo mettere pure a sta 3 ore a togliere pezzo per pezzo della colla quindi veramente questa qua veniva il filo di colla tutto unito cioè non so spiegarvi prendete con la pinzetta voi prendevate dall'estremità insomma la colla secca che voi siete andate a togliere la ciglia facevate questo movimento se ne veniva tutta la colla dall'attaccatura della ciglia finta era qualcosa davvero di fantastico infatti non vedo l'ora di finire quella bianca per ricomprarmi questa e niente ragazze penso di aver finito allora se qualcuno mi chiede per il rossetto che sto indossando mi rendo conto che è un pochettino particolare è questo qui di Makeup Revolution della linea Atomic questa luce sparaflesciata la linea Atomic ed è il Make It Right il viola diciamo scurissimo me lo rimetto un pochettino con voi perché non hanno un'ottima durata questi della Makeup Revolution però per una sterlina si può fare io vi bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze grazie a tutti